Ah, il microfono va? Sì, ci siamo, dai. Facciamo st'ultima intervista del cazzo. Bene, abbiamo qui oggi dei miti, abbiamo qui i nostri anonimi fancazzisti, dei veri miti che io seguo tantissimo. Anonimi. No, guarda, scusa, stai sbagliando proprio. Aspetta, sto presentando. Hanno dei video in particolare, dimmi. Guarda che siamo in Southland noi. Forse devi farla dopo, perché non siamo noi fancazzisti. Ho capito tutto. Vi chiedo scusa, abbiamo sbagliato, gli anonimi non hanno potuto venire, abbiamo dovuto ripiegare su questi ragazzi. No, ma stai, no, ma stai. Ciao, ragazzi, siete dei miti, grandissimi. Voi avete un canale di parodie tipo i Jackass. Sì, siamo noi. Ok. Bello, divertente. Ci sono già i Jackass e sono anche fighi. Perché copiare in malo modo dei miti americani? Perché? Perché in Italia non c'è nessuno. Bravo. Quindi, non avrei saputo dire di meglio. Parlatemi della chart roulette. Ancora. Ancora, quali sono i fancazzisti anonimi? Southland. 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 Come ci chiamano? Ah, Southland. Pure la maglietta, un cazzo. Convintissimi. Io sono Izumo, lui è Tommaso. E Tsunami, Tsunami a Lecce, interrollerò. Ma come mai? Cioè, io adesso voglio capire. A Lecce, due che si chiamano Izumo e Tsunami. Perché? Non si può sentire. Vabbè, perché? Sono nomi d'arte. Grandi nomi d'arte. Grandi nomi veri. Anagrafa, Izumo e Tsunami. Io voglio vedere la carta d'identità. Facci vedere la carta d'identità. Vuoi vedere? Giuro che se c'è Izumo, lui si mette in mutande qui davanti. Vai, cazzo, vai. Pam. Sì, a parte che è finca. Ma che cazzo, io te la straccio. Questa è finca. È verissimo. Io giuro te la straccio, questa finca. È appena stata rinnovata, tra l'altro, con una foto che non si può guardare. Cazzo, si chiama Izumo veramente? Cioè, tua madre ce l'aveva con te, eh? Io padre ce l'aveva con me. Con Tsunami. Che tanto porta anche un po' stiga. Minchia, adesso dico come stanno le cose. Che cos'è la cosa che vi ha fatto più male, ultimamente? Allora, personalmente, uno dei video che mi ha fatto più male è stato quello del pesce rosso. Che parola non l'abbiamo visto? No, non l'avete visto per un motivo valido, perché, grande YouTube, dopo un giorno di pubblicazione, l'ho rimosso. Perché? Evidentemente hanno fatto segnalazioni per tortura agli animali. Raccontaci la scena, vai. Niente, praticamente l'ho preso, l'ho messo in un bicchiere, rigorosamente da vino, e ho fatto un brindisi con un rosso. Con un pesce rosso, però era sempre un rosso. Mi ha andato giù, è sceso, ho aspettato un attimo e l'ho ricacciato. Vivo però, eh. Ma dalla bocca o dal culo? No, no, no. Dalla bocca. Perché qua siamo a parla col tubo, ma può diventare anche parla col culo, se vuoi. E quindi il pesce è uscito poi? È uscito alla grande, il leso, sta benissimo. Diciamo che è morto dopo un giorno. Ma vi fate male sul serio? Ma perché? Beh, decisamente. Dai, facciamo le cazzate che fate di solito. Beh. C'hai lo scotch? Proviamo a fare una depilazione veloce. È volante. A lui, la fai tu? Vai, te la faccio io. Vai, fai la tu in stile, in stile Southland. Spaccala proprio, vai. Vai. Io la applico. Aspetta, aspetta, perché ne mi scanno a scavolare la coppina. Il coppino è che direi che... L'importante, allora l'importante, in queste cose, è avvisare, è dire, io ho treparto. 3, 2, immune al dolore. Vediamo sul coppino. Allora, in realtà sì, io ti do una coppinata, tu non dovresti finire niente. Una bestia, una bestia, una bestia, dai, dai. Vado. Allora, 1, 2, 3. Il pelo è talmente nero che non si vede, ma c'è stata. Senti, ma tu veramente conosci fancazzisti anonimi? Eh, purtroppo sì. Non possiamo provare in diretta a chiamarla? Il pomo, vediamo se ci risponda. Devo accendere il cellulare. Come mai è venuto in mente di fare questa roba tipo Jackass? Io ho visto, ad esempio, la tirata del wasabi. L'ha tirato veramente? Certo. E quella è forte, il wasabi. Cioè, alla fine se le fai queste cose le devi fare veramente, sennò eviti di farle. No, ma quella che mi ha stupito di più è che comunque voi siete di? Di Lecce. Cazzo, ma pure Junterroni è arrivato a YouTube. No, no, è arrivato a Robo. Cioè, ma avete tutto come noi, YouTube, i canali. Io provo a chiamarlo. Cioè, pensavo che Zoom fosse proprio, vedo che sono dei ragazzi normali, hanno la tecnologia, hanno i telefonini, giocano con YouTube, bravi, bravi, anche la maglietta. Senti, qual è il vostro grande obiettivo? Voi che siete faccazzisti anonimi, però tanto non rispondono, avete visto. Ma perché stavo chiamando io, quello è il problema. Dai, dimmi, qual è la più grande impresa che vorreste fare? Allora, vorremmo, diciamo... È occupato, figa, non rispondono mai. I migliori sono un serazzo. Vabbè dai, facciamo con voi poi il limite. Vai, dimmi cos'è la prossima. Vorremmo, diciamo, cambiare un po' il nostro stile. Vabbè, no, cambialo, diciamo, cioè, oltre abbiamo anche un altro canale. Che fate cose un po' più serie. Ma di che cosa? Di che cazzo. Che cazzo sono le cose serie? Allora, è partita da lui che è... Il genio del gruppo. Il semi-leader. Hai detto tutto. Una merda. Vabbè. Che... A cui piace le doppiare, insomma. Cioè io praticamente sulle scene dei film le reinterpreto con l'audio originale. Comunque andiamo avanti. Andiamo avanti. Qual è il tuo obiettivo? Mi hai ancora detto qual è l'obiettivo finale. Stiamo pensando di, in futuro, realizzare un piccolo... Dimmi sta cazzo di... Dai, dimmi. Dobbiamo... Stiamo pensando di realizzare questo film. Il lungometraggio, diciamo. Tipo i Jackass. No, in realtà è un po' diverso. Stiamo pensando di fare qualcosa di più serio. Sì, però se non vi fate male... Ma infatti è sull'altro canale. Invece sul canale di Southland stiamo continuando. Suggeriamo magari al pubblico un vostro video. Cosa... Potremmo mostrare il Guinness dei primati con le trappole per topi. Non so se l'avete visto. Io l'ho visto. Beh, cacchio. Quello è stato, diciamo, abbastanza... Una merda vera, però. Una merda vera, però. No, beh, aspetta. Scegliamo noi. Mettiamolo il video. Cliccate qua. E ce lo vediamo insieme. I fancazzisti anonimi consigliano a tutti di non ripetere in alcun modo le cazzate di Southland. Bello. Io mi sono lasciato proprio andare vedendo questo video. E' un video molto interessante. Un video... Che stimola. Ma ha stimolato molto. Mi ha fatto cagare, sinceramente. Quando ci dicono che i nostri video fanno cagare, noi gli diciamo, guardateli in bagno a sto punto. Infatti, guardateli in bagno. Mi stimolano, no? Ecco, io adesso vorrei fare una domanda seria a voi. Una cosa che tutti gli utenti vogliono sapere e che mai nessuno ha avuto il coraggio di chiedervi. Avete mai realizzato un video talmente pericoloso che vi siete fatti male e che non l'avete messo in onda? Sì, il video c'è. Quello del rastrello. Ah, sì. Cioè il rastrello? Praticamente saltando su un rastrello si becca il rastrello in faccia. E' pure un classico dei giacas questo. Cioè, Stivolo faceva la grande. Beh, un nostro amico l'ha fatto e... Però io voglio vedere questo video. Ce l'avete qua? Beh, noi ti abbiamo portato il materiale. Tiriamolo fuori questo materiale. E' importante, mi raccomando. Certo, è importantissimo, lo terrò molto bene. Il nostro storico... No. Staventarci, forte! Oh, che chissà! Cazzo, mi fa caro! Bene, se volete iscrivervi al canale dei Southland potete cliccare qua, tieni, pergamena. Potete cliccare qui e iscrivetevi, ma non iscrivetevi perché comunque fa cagare. Però, va bene, è strappata la carta. Bene, ragazzi, è stato un piacere più che altro fisico. Vi chiamerò nei momenti bui della mia vita, quando voglio spruzzare. Ti risolleveremo in mare e spruzzare alla grande. Voi divertitevi e continuate a fare video perché la gente vi aspetta, insomma. Posso mettervi in fra di voi? Eh, va bene. Dai, vieni qua. Ti mettiamo a scendici. Grazie, è stato tutto uno scherzo, ovviamente io so benissimo che loro non sono gli anonimi. Non mi ricordo mai chi sono, però per me sono come i due pupazzetti che mi portano fortuna. Per fare quello che vuoi. Grandi ragazzi, io vi saluto, vi congedo. Tornate presto a casa, eh. E fatevi vedere da uno bravo. Mi raccomando. Anche tu però, era stato i guagamenti. Sì, 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 adesso potete andare. Grandi ragazzi, grazie. Ciao. Grazie. Mi sono quasi affezionato a questi anonimi. Ma va, va un po' il culo, eh. Anonimi. Numeri uno. Tubo.